Porca troia, ragazzo, adesso mi viene un ictus. Madonna, che ricordi mi hai fatto venire in mente con la Jalapans Benda, hai detto Sandro. È una vita che non vedevo quel video. Lei è mia in grado di 19 partito, anche se ho presente che è il meme di Sturdiolo. Poldo di Sandrea, che cosa... Ah, no, guarda, sono sicuro, sono sicuro che... Il magnesio, vai, il magnesio, utile. No, le cuffie con l'orecchia da gatto, no, no, il pigiama col pinguino, no. Dai, ma mica di così, no, ragazzi, le cuffie da gatto sono ignobili. Sono bellissime, Poldo, non capisci un cazzo. Non capisci un cazzo. Sono bellissime. Le cuffie da gatto sono bellissime. Per me non vanno bene, non vanno per nulla bene. Sì, tipo Andrea del 1988, gli voglio bene, ma un giorno vengo a casa sua e gli spacco le cuffie. Non è possibile. No, Poldo, no, se venissi a casa mia la prima cosa che farebbe è sesso gay, quindi è inutile che... Adesso non fare finta. So che vuoi mascherare la tua attrazione sessuale per me con questa storia delle cuffie, ma non dire cazzate. La prima cosa che faresti a casa mia sarebbe del palese sesso gay, adesso non fare finta. Guarda che ce ne ho ancora i tuoi messaggi. Ce ne ho ancora i tuoi messaggi che ci siamo scritti due Games Week fa, che ti ho chiesto dove sei e tu mi hai risposto allo stand e mi ricordo cosa e mi hai scritto vieni che facciamo del caldo sesso. Gli ho ancora i messaggi, sai? È inutile che adesso, eh? Guarda che me li ricordo quello che mi hai scritto, brutto maiale. Oh mio Dio, sto morendo malissimo. No, questo non penso... Lelle in chitarra... No, questa è la pubblicità. Grande Johnny, come giusto che sia. Che bisogno c'era? Le donne devono stare ai fornelli. Johnny bravo. The round, grazie per i 14, Martino, grazie per i 7. Johnny bravo, grazie. Ah, era un video, scusate. Why did you leave me? I realized I'm a lesbian hunter. I'm a lesbian hunter? Che cazzo... Ma cosa è I'm a lesbian hunter? I'm a lesbian hunter. O il ragazzo si chiama hunter, se no ragazzi è bellissimo. Il tizio si chiama cacciatore. Sì, ho capito ragazzi, ma il tizio si chiama cacciatore. Sì, ho capito? Ma I'm a lesbian hunter. Non I'm a lesbian hunter. Cioè, le virgole sono importanti. Cioè, I'm a lesbian hunter vuol dire un'altra cosa. Cioè, se non vai la pausa che metti la virgola... Eh, ho capito, è un nuovo diffuso, ma... Non provi a spiegare a un modenese perché i tortellini sono di Bologna. Ah, lo so, veramente. Guarda, è una cosa incredibile. Non lo riescono proprio a capire. Cioè, l'unica cosa che hanno loro è quell'aceto balsamico di sto cazzo. Il resto non sono capace a fare niente. Allora... Questo l'abbiamo visto due secondi fa. Sto morendo, sto morendo dal naso. Madonna che ride le prima cazzo. Allora... La ragazza che piange perché ha preso dieci meno invece che dieci. Intanto la festa a casa di Andrea... Ovviamente io. Per il suo primo set... Dicevi che ci possono essere dei boss intelligenti. Ma in cosa sono intelligenti? Quoziente intellettivo generico, ma poco più. O gestione, quindi ma poca roba. Intanto la festa a casa di Andrea... Ragazzi, per il suo primo set in inglese. Sono d'accordissimi in realtà. Io ho avuto delle compagne di classe che prendevano otto meno e si mettevano a piangere. Sì, la sua media è passata da 2 a 2,1. I serve 27 per recuperare. Io ho avuto delle compagne di classe che erano così. Cioè, io quando in inglese prendevo cinque, per me era come se fossi diventato improvvisamente madrelingua. Dopo 10 momenti più ammazzanti degli anime. Vabbè, qua è il problema, poverino. Non si può fare una pippa pure lui, scusami. E' povero cane. Cioè, se non ha le cagnette con cui andare, si sfogherà così. Cioè, voglio dire... Portalo più spesso al parco e falli ingroppare delle cagnette, se non vuoi. Sennò, poverino. Che cosa deve fare questo povero cane? Non si può neanche divertire un po'. Mi sono sempre chiesto come si divertissero i ciechi. 1967 Braille Playboy. Il buon sheriff, grazie per il ventuno, panattino. E io, papere... Vi ricordo che con Prime la sub è gratuita. Quindi fate la sub, papere. Fate la sub! Cazzo che arriviamo alla maratona. Limited edition Braille Playboy from 1977. Damn! Ma come funziona il Playboy in Braille? Scusami. Ma come funziona il Playboy in Braille? Come fai, scusa? Cos'è? Leggi un'immag... Ma come fai, scusa? Non ho capito. Leggi un'immagine? Cioè, non mi è chiaro, voglio dire. Il regalo che non sapevo... Il regalo che non sapevo di necessitare. Trova le bestemmie! No, bellissimo! Allora, trova le bestemmie. Io cerco subito quale è D. Allora... Dio cremato. Dio cremato, eccolo qua. Qua c'è Dio cremato. Poi... Mangia, qua non può essere... Gesù mangia cazzi, penso sia. Madonna scrofa! No, ragazzi, ma lo voglio. Dio mangia cazzi! Eccolo qua! Ma lo voglio, ragazzi. Dove si... Dove si... Ah, sono qua, vedi? Gesù mangiato, Dio suicidio, Dio catra... Dio catra... Ma ragazzi, lo voglio. Lo voglio tantissimo, le parole crociate con le bestemmie. Cioè, sono bellissime. Se lo trovo, me lo compro subito. Io ce l'ho! No, dai! Dove si compra? In quale setta satanica posso comprarlo? Su Amazon? Ma dai! Alla fine ti fai della copertura. Bestemmie intracciate ed enigmistica per adulti arrabbiati. Bellissimo. Oh, maledetto! Oh, maledetto! Che credo sia sempre lo stesso autore... Credo... Credo sia sempre lo stesso autore... Del signor O'Cane. Credo... Il libro... Questo libro, infatti, è di O'Cane. È il signor O'Cane. Le 365 più 1 migliori bestemmie per ridurre lo stress e calmare l'ansia. La tua bestemmia quotidiana. Quindi voglio dire... Adesso, che... Cosa siamo oggi? Oggi è il... 24 marzo. 24 marzo. 24 marzo abbiamo... Madonna che suona il piano e Cristo la tromba. In tutti i sensi. Vabbè, questo... Questo è il libro... Questo è il libro... Le 365 più 1 bestemmie quotidiane per sfogare la rabbia. Quindi... Lo mettiamo via, però... Perché... Però facciamo casino. Ho tanta di quella roba lì dietro che... Mi fa piacere... Mi fa piacere che il signor O'Cane o il signor O'Maledetto... Dio O'Maledetto... Sia... Sia... Un... Come si dice... Un assiduo venditore di libri. Almeno ci ha provato. Ma che cosa? Io lo dico sul serio. Quanto è brava. Questa ragazza da grande fa la strada. Io lo dico qui oggi. In questo video. Ne riparliamo tra dieci anni. Che spasso, cazzo. Queste gags incredibili. Che spasso, cazzo, porca droia. Vuoi continuare a fare OnlyFans? E anche PornHub. Voglio far uscire un porno di attivismo. Certo. Chi è che non guarderebbe un porno di attivismo? Immagino il porno di attivismo. Più o meno... Come funziona? Cioè, te a pecora uno che te lo mette nella figa e nel culo. E tu mentre vieni trombata dici... Non mangiare! Non mangiare animali. Mangia il tofu. Come funziona il porno di attivismo? Prendi un pigello in bocca e dici... La salsiccia. Prendi solo questa. Ma che funziona! Non osi immaginare il successo che avrà il porno di attivismo. O forse potrebbe essere. E qui lo dico, potrebbe essere. Non ha voglia di lavorare e quindi si butta in cose altamente remunerative spacciandole per cose ideologiche. Ma... La... La butto lì, eh. La butto lì. Potrebbe essere. Cuscino Crissinbon... Oh mio Dio, no, vi prego ragazzi. Che cazzo... Ragazzi, la gente comincia ad avere dei gravi problemi mentali. Io ve lo dico, la gente comincia ad avere dei gravi problemi. È perfetto, sì. È molto carino. Questa è per pochi. In senice Buis. Film con Ryan Gosling. C'è una tipa che fa un borno di attivismo. E non finisce bene. Non me lo ricordo, Remis. Grazie per il C. Non me lo ricordo. La gente sta malissima, è vero. Però comunque è carino. Ammetto che è carino. E io non pensavo che questa pubblicità sarebbe diventato un meme di questo tipo. Io ve lo dico. Io quando la vedevo in tv, ne la cantavamo, ma non ne è rallentata. Non avrei mai pensato. You died. Ammetto che mi sono spaventato. Non è ancora il momento però per infartuarsi. Non è ancora l'orario giusto. Non è il momento per farsi prendere un infarto. E' un po' precoce ancora la cosa. Il bro... Ah sì, questa l'abbiamo visto. Angelina Mango! Rette, 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 rette. Secondo lei Angelina Mango è da considerare campan... Angelina Mango! Non sapeva che cazzo dire. Angelina Mango! Rette, rette, rette. Io durante matematica ti capisco, effettivamente è una reazione molto diffusa comunque. Questo l'abbiamo già visto. Allora... Quando i ragazzi sono arrabbiati. Hello there! Al giorno d'oggi puoi pure dire ciao a una persona e diventi un meme completamente a caso. Sì, sì, è vero. Peggio ancora quando decontestualizzano robe a caso facendole diventare robe fasciste o naziste. Sì, sì, ma verissimo, sono l'oggi e sì, cosa. Grazie per l'arrabbiatino. Annoiati. Sì, sì, lo so. Quando i ragazzi sono annoiati. Perché? Cosa ho detto ragazzi? Scusate, ho detto qualcosa di sbagliato? A volte parlo sovra pensiero, quindi magari ho detto una cosa che è completamente sbagliata. Non so cosa ho detto. Arrabbiati? Ah, scusate. Volevo dire annoiati o sbalvolati. Quando gli uomini s'annoiano questo è il livello di demenza. Confermo. Ora però la voglio fare. Ora però la voglio fare. Ora mi servono dei volontari per fare questa cosa quest'estate in spiazza. Numero due. Questo lo so perché l'ho anche commentato, quindi lo so. Nomi per il tuo gatto se vuoi essere un perfetto napoletano che guarda mare fuori e gomolta. Numero uno. Scarface, kitty kitty bang bang, frate mi teniste una sigaretta, se no ti scassa la capo. Numero due. Andrea del 1982. Numero tre. Questo è long. Gennarino, quartiere spagnolo, ti aspetta a margelline. Si vuoi parcheggiare, so cinque euro a piacere, se no ti buchi in roto. Metti mi piace e segui per altri video e per altri animali. A parte il fatto che mi sembra, io non vedo questo video, non è assolutamente nessun riscontro. Ue, ma che stai dicendo? Scusate, ho avuto un attimo di... Scusate. Ho avuto un momento di... Di faiaschietto, scusate. Solo per il 25%. Sono napoletano solamente per il 25%, quindi... Sì, sono mezzo terrone, sì, sono mezzo terrone, è vero. Non lo nego. Cioè, l'altro 25% viene dalla Puglia, quindi... Però ho anche un 25% Veneto, quindi... Non lo so, fate voi. Credo di essere un po' tutta l'Italia, io. Fate voi, senza problemi. Allora. Dunque, dunque, dunque. La, la, la fame. Chi è strozzato, oh mio Dio. Oh mio Dio, che è strozzato. Furri... Cos'è sta roba? Mi ha fatto un sacco tutto veloce. Ha fatto un sacco ridere. Tutto così velocemente. Questo l'abbiamo appena visto. Age e le cinque... Age e la reazione ai cinque trucchi infallibili per conquistare una ragazza. No, te ludo. Sedala. Perché sedurla se puoi sedarla, come ho sempre detto a voi ogni volta. E' un ragazzo e non sai come provarci con una ragazza? E' arrivato. E' arrivato. E' arrivato. E' arrivato. Ecco a te, cinque trucchi infallibili per conquistare una sconosciuta. Va bene. Sentiamo. Sono molto curioso. Sentiamo. Ma la scienza lo dice, Jake. La scienza. Numero uno. Provaci dal vivo. Sei... Ma... Dipende. Sei tu, te te scopi? C'ha ragione. Perché non ci abbiamo pensato. Magari ci presentiamo con dei sandwich, delle birrette, chiamiamo pure una fanfara, suoniamo le trombe. E così si arriva al punto due. Sì, spontaneo. Ma che cazzo stai dicendo? Mi prendi anche per il culo. Però tre, i particolari sono importanti. Sì, ma... Voglierla in questa città, città bellissima, che i suoi piedi bellissimi, ma non altrettanto che lei. Numero quattro. Sii sicuro di te. Tutte le ragazze sono tremendo. Ma hai fatto benissimo. Lascia quando voglio, io lo riprendo. Nessuno mi resiste, ma mi è... Ma hai fatto benissimo. Con una con te, yeah. La vibe che devi trasmettere è... Doctor, c'ho sotto il canone. Voglio te. Chi sa fare, non sa capire. E non sto parlando di insistenza. Ti ho detto, togli... Sì, vabbè, ma signorina, però, ma che consigli della mutua sono? Cioè, questi non sono consigli. Queste sono cose da fare, o cose da essere. Cioè, che consiglio è? Scusami. Cioè, sì, in parte sono d'accordo. Però che significa? Cioè, puoi dire, sarebbe meglio che... Devi essere cosa? Cioè... Sempre i consigli della mutua. Un pesce o un pesce? Pesce o un pesce? Finisci il video. Numero 5. Abbi rispetto. Peccato perché era una bella idea. Ma va a cagare. Vabbè, era finito il video. Pesce o un pesce? Pesce o un pesce? Perché? È un pesce. Vabbè, è un pesce. Non è che ti possono bannare per un pesce. È un pesce. È... Diciamo che questo, secondo me, potrebbe diventare, a breve, il pesce più acquistato dalle ragazze, secondo me. Però... Cioè... Credo che ci sarà uno smercio incredibile di questo pesce nel mondo femminile abbastanza abbondante. Poi, io credo, ma... Magari no, eh. Magari no. Però, probabilmente, il pesce sarà un po' traumatizzato a seguito dell'acquisto. Però... Chissà le sue tattiche di caccia. Ah, beh, sono abbastanza facili. Credo ti entri nel culo. Credo, credo. Però non sono sicurissimo, magari... Il cane è nostalgico. Tassia, non c'è vita senza luce, non c'è Italia senza... Lo sai perché? Il ragazzo cieco. Il giorno d'oggi è meglio avercelo piccolo piuttosto che grande? Dimmi. Ascolta bene, ti faccio un esempio. Siamo al ristorante? Un appuntamento galante. Dici? Tesoro, devo andare un attimo in bagno. Mi devo rinfrescare. Lo tiri fuori, eh. Lo tiri fuori. Fai due schizzi e nessuno se ne accorge perché... Dipende, in realtà. Tu fai così. Za, za. Ah. E vai un'altra volta di là. Ma... Scusate, mi sono perso. Cioè, quando esco con una ragazza devo andare in bagno e sborrarmi sul collo. Non ho capito, scusate. Immagina se con una scialuppa del genere tu ti ritrovi. Tesoro, vado un attimo lì. Lo tiri fuori. Cioè, è proprio una roba così grande. Cominci a spruzzare come boh, boh, così proprio spruzzi. Ti sentono tutti. Ti guardano tutti quanti. Avrai fatto una figura di merda con la ragazza che scapperà. Perché con quella scialuppa lì, dove vai in giro con quella roba lì? E quindi è meglio avercelo piccolino. Ok, quindi ho capito. Praticamente è meglio avere il cazzo piccolo perché al primo appuntamento se devi andare in bagno ti devi sborrare sul collo, ma col cazzo troppo grande sborri troppo e di conseguenza il ristorante si gira e ti vede che ti stai sborrando e fai la figura di merda. Ho capito. Perfetto. Ricevuto. Tengo a mente, terroramente questa cosa. Ricevuto. Me la salverò in bermomenti. È festo, grazie Brino. No, è malattino. Bisogna sempre tenere a mente questa cosa, bisogna sempre tenere a mente. In realtà io ho una cosa però vagamente simile, l'ho sempre data come consiglio. La prima sera che esci con una ragazza, fatti una sega prima di uscire con lei. Perché se riesci a trovarla interessante quando hai sborrato, vuol dire che probabilmente puoi essere un potenziale partner. Ma masturbati prima di uscire. Perché probabilmente se esci con una ragazza e non ti sei masturbato e sei arrappato, l'unica cosa che penserai è che vuoi trombartela e il tuo cervello comincerà a credere che sei innamorato perché vuoi fare sesso con lei. Quindi secondo me potrebbe aiutare. Secondo me non è una cattiva idea. Farsi un gran raspone prima di uscire con la ragazza con cui hai appuntamento. Così senza alcun tipo di istinto sessuale puoi valutare se può essere interessante o no. Io lo facevo durante l'appuntamento. Fai bene. Io lo facevo con lei durante l'appuntamento. Lei era sedata in quel momento ma questo non è importante. Gaetano questo l'abbiamo già visto. Questo l'abbiamo già visto. Il tuo miglior amico elementari ti ha chiesto di toglierlo dai cattivi mentre la maestra non sa. Questa cosa qui noi non l'abbiamo mai fatta posso dire. Non l'abbiamo mai fatta i buoni e i cattivi. Anche perché penso che nella mia classe se avessimo fatto i buoni e i cattivi sarebbe finita la rissa. No perché penso che noi ci saremmo minati se avessimo fatto quella. Cioè a noi sarebbe scattato tipo le minacce tipo cosa nostra capito. Se ci saremmo alzati avremmo minacciato la persona alla lavagna capito. Cioè credo sarebbe partita la camorra o la corruzione. Tipo il pizzo ti do la merendina se mi togli. Quindi noi non l'abbiamo mai fatto perché c'era quest'altissimo rischio. Cambiamento climatico. Gli uccelli si rimpiccioliscono per l'effetto del caldo. Signori, credo che sia ora di prendere in considerazione il risparmio. Credo che sia il momento di spegnere i riscaldamenti e usare il meno possibile l'aria condizionata. Possibilmente andare con auto elettriche. Dobbiamo risolvere questo problema. Dobbiamo risolvere questo problema. Non possiamo permettere al pianeta di morire. Dobbiamo salvare il pianeta. Fino a che ora stai live? Alle 21 tutti i giorni tra nel sabato fino a luna più o meno. Fai la sub. Fai la sub. Lo so che lo vuoi. Lo so che lo vuoi. Fai la sub. Quindi che dobbiamo risolvere questo problema qua. Non possiamo permettere che i nostri cazzi vengano ridotti. È ora di salvare il mondo. Poveri tucani. Ma no, che cazzo me ne frega a me dei tucani? Che cazzo me ne frega a me dei tucani? Io penso al mio cazzo. Affanculo i tucani. Cos'è ne penso delle auto elettriche? Ma guarda, non è che ne penso. Cioè, è più figa la benzina. Perché è vero. La benzina è più figa. Io maschio. Io uomo. Io scimmia. Io volere cosa che fa. Vroom, vroom, vroom. Grande e grossa. Perché sì. Perché io sono un uomo e fondamentalmente le cose enorme che fanno vroom mi piacciono. Però, d'altro caso, abbiamo il problema che il petrolio è una risorsa limitata. Che sta lentamente esaurendosi. E, sfortunatamente parlando, il petrolio non serve solamente. Per fare andare le auto. Ma serve anche per le materie plastiche che vedi in giro. Tra cui una grande percentuale delle plastiche che vedi in giro. E che tu ci crederò, il petrolio viene usato anche per la produzione di medicinali. Come ad esempio l'aspirina. Il petrolio viene usato in tantissimi settori. Dal settore delle plastiche al settore medico. E quindi, di conseguenza, noi non possiamo più permetterci di sputtanarlo con le automobili. Anche perché se finiamo il petrolio è un problema. Perché una buona parte dei materiali plastici che conosciamo adesso non esisterebbero più. E quindi, potrebbe essere un grosso problema. Per cui, per quanto le auto elettriche non facciano brum brum. E sono d'accordo che siano molto meno fighe. E molto più gay. Noi dobbiamo comunque cercare di evitare l'utilizzo del petrolio. Perché ci serve per altre risorse. Il bro sta guardando... Che stronzato, mio Dio. Prego, caro. Più avanti il video mi fa venire da piangere. Ah, se c'è qualcuno nuovo, non si preoccupi. Non sono omofobo. È un mio meme dire gay. Ma gli omosessuali me li scoperei anche, quindi... No, questa cosa devo eliminarla. Se la sente no, mi uccide. Quindi meglio non fa... Che cazzo... Che cazzo... Ma non... Sembra... Sembra un mix. Avete presente? Sai cosa sto guardando? Guarda, sai cosa sto guardando? Ehm... È quello di Asterix. Che mette tutti i veleni insieme. Porca troia uguale. Che cazzo sto guardando? Che cazzo... Ma sai cosa sembra questa roba qui? Sembra un callo fungino dell'alluce incarnito di una 96enne. Che gli hanno appena... Non sembra quello. Vi è mai capitato su TikTok i video di quelli che tagliano le unghie incarnite gialle dei funghi enormi? È quello, ragazzi. È quello. Sembra... Sembra un'unghia incarnita tagliata da un... Ma quello sembra, però. Cioè... Sembra esattamente quello. Cioè... Io non ho idea di che cazzo abbia fatto. Prof, ragazzi, oggi affronteremo due ore intense sulla vita di Manzoni. Clash Royale. I gave you my heart But the very next... Porca troia. Se la mia prof mi avesse detto che avremmo affrontato due ore della vita di Manzoni, mi sarei addormentato immediatamente. Anzi, no. Non mi sarei addormentato. Avrei fatto un viaggio astrale, probabilmente. Cioè, nel senso... Avrei fatto... Avrei fatto un viaggio astrale. Come facevo io a viaggio astrale? Che mi mettevo così. Fissavo tipo la maestra al muro, però non la mettevo a fuoco. Guardavo dietro. E dopo tutto diventava sfocato e cominciavo a pensare. E mi rimanevo così. Divo, pensavo ai cazzi miei. Pensavo ai videogiochi, alle avventure. Io che diventavo un personaggio di un videogioco di un anime. E sconfiggevo i cattivi che mi inventavo. Io che creavo situazioni. Io che trombavo le mie compagnie di classe. Io che fermavo il tempo e trombavo le mie compagnie di classe. Lo so che l'avete pensato anche voi, brutti maiale di merda. Lo so. Questa è una cosa che nessuno di noi dice mai, ma lo so che l'avete fatto. Avete immaginato ad avere il potere di fermare il tempo per poi trombarvi le vostre compagnie di classe. Lo so che l'avete fatto tutti quanti almeno una volta. E' un pensiero, è un pensiero... E' un pensiero abbastanza... E' un pensiero abbastanza diffuso. E no, vabbè, ma è così. Non è che lo facciamo... Non faremo mai del male a nessuno, veramente. Però nella nostra testa... Nella nostra testa, guai, in alto, nella nostra testa non ci sono conseguenze a quello che facciamo, quindi... Cazzo me ne frega, nella mia testa non ho conseguenze di quello che faccio, per cui che me ne fotte. La mia fantasia vaga nelle maniere... Cioè la mia fantasia vaga nella più profonda e disgustosa depravazione. Ma tanto che cazzo me ne frega, è la mia fantasia. Non faccio mica del male a nessuno. Nella mia testa non succede niente. Mica lo faccio nella vita reale. Ma nella mia testa, cazzo, partono dei film mentali che sono molto interessanti. Gente che muore, gente che viene sbudellata, gente che viene trombata. E' una cosa incredibile. Gente che viene trombata mentre sta venendo sbudellata contemporaneamente. Io dopo un pocio ho iniziato a farmi pippe mentali sulle ragazze nell'intera scuola. Appena ci provavo con una si inventavano che le andavo sotto casa senza nemmeno sapere dove abitavano. Ma tu digli che è vero. Quindi, piuttosto che finire tra le sbarre. Ma tu digli che è vero che lo facevi costantemente. Che sai anche dove abitano loro, però. Quindi andiamo avanti. Oh mio Dio. Piovi, sei in gita scola, sei in gita a Napoli con la tua classe. Poi. Vabbè, vabbè, è un giro di mercato. Nel senso, è un giro. È un dare, un avere. È una varietà di vendita di prodotti che vanno e vengono. E qual è il problema? I prodotti vanno, i prodotti vengono. È l'economia circolare, quindi, voglio dire. La famiglia Felice Mastronzo l'abbiamo vista. È arrivato il dottor Garbo. Eh, il dottor Garbo. Se il... No, solo Garbo. È dottore? Il signor Garbo. Non so se è dottore questo pazzoide. La Meloni. Piovi, ti candidi rappresentanti d'istituto ed esponi nelle classi il tuo programma. L'Italia deve diventare un'assoluta e chiara, chiara per tutti, dittatura. Perché solo così potremmo riportare la pace e il benessere nel nostro paese. Non l'avevo mai sentita quella frase del genere. Non l'avevo mai sentito. Dobbiamo diventare una dittatura per riportare la pace e il benessere. Brian, grazie per i ventiquattro, Panatino. Grazie mille. Non l'avevo mai sentita, ragazzi. È una cosa bellissima. Auguri a Sibo, a compleanno, Panatino. Ti mando un bacino. Mio bel cioccolatino succoso. No, è una cosa... Vabbè, è una pace. Se ci rifletti, effettivamente, sì. Perché, nel senso, comunque, è una pace per lui. Cioè, nel senso, siccome l'Italia è una dittatura e l'Italia seguirebbe il suo modello, per lui sarebbe un ottimo posto. Per tutti gli altri... Gli altri non sono così importanti, dai. Gli altri che si fottano un po', voglio dire... Allora, maledetto Conad. Questo l'abbiamo visto. I papà su WhatsApp. Erzacca, grazie mille, Panatino. Ciao, bele. E vai ad agio, ma non da imbranata. Se ti consiglia la guida di tuo padre. Come si chiamano questi disegni? Mandala, te l'ho mandata. La mamma è ciucca. Deve smaltire i fumi. Oh mio Dio, ragazzi, ma questa cosa è universale. Questa cosa è universale, ragazzi. La mamma è sbronza e il padre che l'accompagna... Ma è una cosa universale, questo. Non è cattiva tua madre, ma è una rompic***oni. Vai tranquillo, zio. Questo non riguarda tua madre. Questa è una cosa universale. Ricky, grazie per i 26, Panatino. Questa è una cosa universale. Ora, Naomi mi ripete sempre. La cosa che mi dici di più è che ti rompo i coglioni. Vai tranquillo, è così che funziona. Ti fidanzerai con una donna che ami, ma ti romperai il cazzo e tu la ripeterai continuamente che è una rompicoglioni. Quindi è una cosa in linea di ma generale. Ciao papi, mi hanno preso al master. Che peccato. Voglio la pasta con i fingi, funci, fughi, va bene, hai capito. E ne ho visto le foto della patente, rifalle per piacere. Oh mio Dio, che scassamento di padre. Io sto bene, la mamma russa, tutto regolare. Auguri Saini, augurassimo. Cribio, auguri. I padri che non vedono un cazzo di niente col cellulare così... E se non mettono gli occhiali, si mettono così... E non vedono un cazzo. Oppure quando si mettono gli occhiali... Si mettono, si mettono gli occhiali da sole, gli occhiali da pista... E non vedono più una micchia. Sto facendo un terremoto di rutti, sono sveglia addirittura... Ok, porto il cane a annusare pisciatina... Tradotto. Ma ti funziona, what's up and mi fa... What's up and... Ma male sentire la schiena, ma nei fatti le auguri alla mamma, no poca miseria... Ma che consiglio è? La panza è come la minchia, non vuole pensieri... Buonanotte, ma nei fatti le auguri alla mamma, no poca miseria... Ho fatto la cacca all'amore, ho dovuto scaricare due volte... E questa è l'informazione importante... Mi è passato davanti, le ho detto brutta budellona, in modo che sentiva... Arrivati, ma perché il dito medio... Senza occhiali... Credo che il padre volesse fare così... Senza occhiali e siamo arrivati, papà! Oh mio Dio... E poi tra l'altro mi fa un sacco ridere... Adesso io questa cosa a mio padre non gliela dico mai per non prendere in giro... Ma mi fa un sacco ridere... Perché mio padre sta cominciando ad avere quell'età... Che quando scrive mi preoccupa... Cioè ogni tanto penso che gli sia venuto un embolo davanti al cellulare... E scrivo una cosa e leggo... Sta scrivendo... Sta scrivendo... Sta scrivendo... Passa due minuti e mezzo... Sta scrivendo... Sta scrivendo... E io lì che penso... Cazzo mi sta scrivendo la Divina Commedia... Mi sta scrivendo il nuovo poema di Dante... Lei ieri... Arriva... Emoji della Manina... Oppure... Ok... Scusa... Che cazzo... Tre quarti d'ora a scrivere... Che cazzo hai scritto... Tre quarti d'ora... Ok... Manina... Vabbè... Si vede che evidentemente... Oh... Ci mettono un po'... Ci mettono un po' a trovare... Come si dice... L'emoticon giusta da mandare... No... Se no non si spiega... Se no non si spiega esattamente la motivazione... Quando un maschio vede passare una femmina un po' scollata... Sì... Sì... Devo dire... Sì... Eh... Sì... Non ho nulla da dire... Merito... Confermo... È più o meno quello che facciamo... Effettivamente... Dura un po' di più il verso... Effettivamente... Dura un po' di più... Perché... È un po' più tipo... Però nel senso... Comunque... Più o meno... Sì... Io che cambio la mia voce... Ogni volta che la ragazza cieca... Mi rifiuta... Che idiota di me... Toccante... Questa la conosco già... Pio V... Conosci un emiliano... Comunque ragazzi... Stavo pensando che probabilmente... L'accento meno sexy di tutta Italia... È quello emiliano... C'è letteralmente... Immaginatevi... Un ragazzo... Che approccia una ragazza... Un ragazzo... Che approccia una ragazza... Bombardano Gaza... Scusate... È un meme... Ciao... Sì... Beh... Ho capito... Ma... Eh... Però... Non si è capito... Si è capito... Ma... Vabbè... Ma è un meme... È una cosa di... Di uno stand-up comedian... Io... Non rompete i coglioni... È una roba di uno spettacolo comico... Però... Scusi... Adesso... Zia... Ti voglio bene... Ma... Cioè... Ciao... Ma che cazzo... Non è approcciato un ragazzo... Ti sei fatto approcciare da un 96enne... Ciao... Sì... Ma ti sei fatto approcciare da un 94enne... Non da un ragazzo... Scusami... Ma poi... Il baffo... Ti ho visto da lontano... Mi sei piaciuta... Ti ho visto da lontano... Mi sei piaciuta... Ahahahahahah... Sì... Sanit... Saffet... Andiamo fuori... Stasera... Ti porto a un baretino... Ci facciamo uno sprit... Eh? Te va? Poi... Sottchumel... Dopo ci andiamo a fare... Quattro passi... In via indipendenza... Ti piace qualcosa... Te lo... Te lo prendo... Finito di mofiare... Dopo... Posso mai... Ce ne mino... Poi... Possiamo andare anche a gubiare, vieni a casa mia E dopo magari ci vediamo un film e ci diamo anche dentro Di mo' Ma che c... Hai da fare stasera Ehm... Vuoi andare a mangiare qualcosa? Se no facciamo due passi Due passi? Non ho ricordato, ho da fare, ho un impegno Hai da fare? A me dispiace proprio tanto, vuoi mi sei proprio piaciuta Però hai da fare Quello è Romagnolo, hai da fare E tanto puoi mangiare Se vuoi ti aspetto Non c'è problema, guarda No, 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 gentilissimo, ma proprio non... Tu non sei di Parma, vero? Non t'ho mai vista E infatti dicevo, non mi sembrava bolognese, mi sembrava un po' diverso Infatti sono di Milano Andre, cos'è quel contatore di Varship in basso a destra della live? Què? Comunicazione di servizio Tutte le papere che sono parte della community della Formula 1 Sono pregate di mandare in chat un bel tiu-tiu-tiu-tiu Max Verstappen Fermi tutti! Fermi tutti! In questa camera qualcosa non va Il Matrix è il Matrix, è il Matrix, è il Matrix! Hello there Lunedì so' stato con un mio amico a Bologna In un McDonald's lungo via indipendenza per scherzo li ho urlato soccimel Solo che non ho modulato il volume e si è girato tutto il Mac Credo che qualcuno abbia preso il mio posto Credo che io non sono più io Qualcuno mi ha sostituito Qualcosa non va in questa stanza No Patatino è semplicemente lo sponsor di World of Warship Che mi sono dimenticato di togliere perché in realtà è scaduto da tipo due mesi E io mi sono completamente dimenticato di toglierlo dalla live Quindi Però è lo sponsor di Ah ma Milano 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 centro Sì centro proprio Allora devi assolutamente provare il nostro parmizzano rezzano L'hai mai provato? Il nostro parmizzano rezzano Il grana Sì sì ho provato Buonissimo l'uomo Guarda devi stare attento a quello che dici Perché il grana non è proprio cosa nostra Sì vabbè Sì ho capito Ma questo non Sì vabbè Allora è vero che l'accento emiliano Boh Neanche secondo me è particolarmente sexy Però cazzo Ti stai facendo rimorchiare da un rincoglionito Però Dio mio Questo è il rimorchio più da rincoglioniti che abbia mai visto Ui sì è vero Effettivamente Boh Cioè nel senso Vabbè che oramai a Bologna nessuno parla più così Cioè ma chi cazzo parla così a Bologna? Almeno a Bologna non c'è quasi più nessuno che parla in dialetto Non è come Napoli Cioè Napoli Napoli c'è un sacco di persone che parlano ancora in dialetto Bologna no Cioè Bologna oramai c'hai la cadenza C'hai l'accento Ma la parlata non ce l'ha Nell'accento si senta D'accordo Anch'io ogni tanto mi viene la esce Però Non è proprio il dialetto Anna grazie mille 24 Mattina grazie mille È più la cadenza Dai Nessuno parla più così Ma dai Sta impazzendo È Maria Sofia Che io non escluso Esatto L'abbiamo già visto E se l'11 settembre non ci fossero stati danni da collisione? Cosa? Ah e bastava modificare le impostazioni del server Vedi alla fine Signorina me lo dici così Come scusi? Come fa a rinnamorare un ragazzo con un solo e semplice indovinello Ok Quella differenza tra me e una zanzara Che quando la sculaccio lei non smette di succhiare Signorina vada tranquilla Credo che tranquillamente sì Una frase del genere potrebbe far tranquillamente Far cadere in amore tutti gli uomini della discoteca Che va molto tranquillamente Sì sì Funziona eh Funziona 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 tantissimo Funziona benissimo No non è una predict Ragazzi è una battuta Non è una predict È una battuta La conoscevo già Dice una frase del genere E credo che un uomo si innamori abbastanza tranquillamente In realtà effettivamente Non è che Funziona Funziona Quindi sì Signorina mi vuole sposare E sì funziona benissimo Marketing geniale Tragedia è che ti perdono le migliori salchipapas di Villavicencio A chi è in Papacillo Barrio La Coralina Io ragazzi Non ho capito un cazzo Io ragazzi Non ho capito un cazzo Di quello che Calmi tutti Ora che sono in bagno I rumori si sono No aspetta Stavo scrivendo Ed ora li sento fuori dalla mia porta Gli interruttori che si accendono e spengono Kevin Tutto bene? Kevin? Kevin Cosa sta succedendo? A nome di tutta la community paperosa di Formula 1 È le dichiarazioni di guerra nei confronti del team Red Bull è stata depositata Amo questa chat e auguro un mondiale vinto da Sharla tutti minore 3 Allora schio Allora schio Allora schio Io ti voglio bene Però regola numero 1 Le dichiarazioni di guerra Qui le faccio io Non prenderti i poteri che non hai Stai caldissimo In secondo luogo Sono d'accordo con te Anche perché non capisco un cazzo di Formula 1 Quindi sono d'accordissimo Il team Monster Quest'anno perderà Fanculo Viva Schumacher Kevin Stai calmo Non esistono i fantasmi Non ti agitare Sarà probabilmente Un cortocircuito Stai calmo Rilassati Non esistono i fantasmi Non ci sono i fantasmi Non esiste nulla di tutto questo E a meno che i ladri Non si divertono a farti fulminare la lampadina Accennendole Chiama semplicemente Ci sarà un problema elettrico O staranno semplicemente Non respiro bene Vabbè ma quello Quello non Mi ha fatto ridere Sarà qualcuno che starà sistemando i cavi Magari c'è qualcuno fuori Che sta sistemando i cavi O magari sono dei ladri Che stanno cercando di staccare In ogni caso Calmati Non ti agitare Non esistono i fantasmi Delle due E se pensi ci siano degli individui estrani Fuori dal tuo giardino Affacciati Guarda Ho il dubbio Chiama la polizia Ma tranquillo Non ci sono i fantasmi Gaaaaay Scusa Potresti poggiarmelo sulla gamba? Ma Se proprio si tieni Ah ma il manubrio intendevi No no il cazzo Ha ragione Ma che manubrio Il cazzo Faccio meglio i bicipiti Se mi appoggi il cazzo sulla gamba Li faccio molto meglio i bicipiti Se mi appoggi la minchia sul femore Vado molto più veloce Quando la mamma del tuo amico Fa gli sconti Bella play puttana Brava puttana Brava puttana Brava Beh ci sta Voglio dire Se fai gli sconti Bisogna approfittare Voglio dire Mi senti? Mi senti? Dai R A G A Z Z I I Forza F E R R A R I I I Forza F E R R A R I I Però se metti in maiuscolo Non si capisce un cazzo Scusa È da ieri dopo le dieci di sera Che continuano in continuazione Io sono fermo chiuso in bagno Nel seminterrato Aspetta che Kevin Kevin scusami Non voglio ridere delle tue disgrazie Kevin Aspetta È da ieri che sei chiuso nel seminterrato Scusami Aspetta È da ieri È 24 ore che sei chiuso nel seminterrato Che cazzo Ma primo Esatto Primo In caso di Di fantasmi Ma chi è che va nel seminterrato? Cioè il basamento è il luogo Con più demoni in assoluto? Ma chi cazzo è che va nei basamenti Per nascondersi? Sbagliato È insofitto Ma come il seminterrato? Ma poi scusami Ma poi scusami È un giorno che sei chiuso nel seminterrato Ma Kevin Ma esci Ma che fai lì? Ma che stai chiuso nel seminterrato? Ma esci fuori Ma che cazzo Ma scusami Ma chiama qualcuno Ma chiama i tuoi genitori Ma cosa vuol dire Che sei un giorno chiuso nel seminterrato? No 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 Non sono chiuso Ora mi sono chiuso Ma chiama qualcuno Ma perché che cazzo Longhello Grazie per noi Ma chiama la polizia Chiama i tuoi genitori Ma cosa vuol dire Che ti chiudi nel seminterrato? Cosa fai alle pubblicità League of Legends? Scusa Come ti permetti Io gioco a Dota Io quando mio padre dormo Ma io quando mio padre dorme Mio padre quando io dormo E ma Andremo non puoi staccarla live Siamo gli unici a cui ha scritto aiuto Se stacchi Kevin ha un collasso Ma ancora un po' rimangi in live Quindi non è un problema Ma quello perché? Ma quello diventa inevitabile Quello sapete che diventa una cosa inevitabile? Io te lo dico Cioè non ci potrete fare niente Lo sapete Sapete che l'altro giorno c'era Io No l'altro giorno c'era Un paio di mesi fa Io ho svegliato il ragazzo di mia sorella Che dormiva con lei Dalle scatarrate che ho fatto Credo Credo che sia una cosa Che molto semplicemente Non puoi assolutamente evitare Tutti bene Ma per l'amor del cielo Il seminterrato serve in caso In cui Putin ci sganci il nucleare dalla Russia Chiama i carabinieri La polizia Il padre di Andrea Che è investigatore della pula di Bologna Chiama per l'amor del cielo Il fantasma di Kevin Ti sto venendo a prendere Chiunque tu sia Sei un idiota Oh Cristo Io amo questa community Sono nel procinto Di andare faccia a faccia Contro il fantasma Con la pistola in mano E che cazzo fai Kevin? I fantasmi Mica li puoi sparare E quelli sono Quelli sono trasparenti Mica li puoi sparare Rumagraff E per aver fatto una sabba Che fissato un sabba Al fantasma di Kevin No ma Kevin Devi usare un raggio protonico Cioè I fantasmi Mica il che fai? Gli spari al fantasma Non funziona mica Quelli sono antiproiettile Voglio dire Scusami Cerca 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 di Cerca di A parte il fatto che mi fa molto ridere Che ci sia un fantasma C'è un fantasma di casa tua Che lavora per l'Enel E ti sta accendendo le luci Così C'è un fantasma di casa tua Che si diverte a salire Scendere le scale E accendere le luci Così È il fantasma dell'era Energia E Kevin Per l'ultima volta Prima che mi stai facendo venire Un embolo a me Per l'ultima volta Chiama la polizia Oppure chiama i tuoi Nel caso Cosa stavo dicendo? Ah sì Gli scatarramenti Vero Vero Se non esce dal seminterrato Tra qualche giorno Vediamo Kevin Da chi l'ha visto Ragazzi Credo che sia McAllister Credo che abbia ragione Credo siano entrati i ladri Ragazzi È Kevin McAllister È chiuso nel basamento Hai preparato le trappole Kevin? Mi raccomando Ricordati i secchi di vernice in faccia E le macchinine fuori della finestra Mi raccomando Kevin Siamo tutti contenti Oddio Ma chiami i tuoi genitori Di mamma ci sono i fantasmi Vieni Probabilmente ti disconoscerà come le figlie E ti cancellerà dalla sua eredità Però almeno voglio dire Chiami i tuoi Così vengono a controllare loro Andrea non fare ste sgommate Guarda mamma e papà Come faccio il pirla io E consumo le gomme come un coglione Guarda poi papà C'è la gomma che non funziona Papà C'è una bolla sulla gomma Andrea Vai a fare il culo la prossima volta Certo che anche tu Fai vedere questo video a tuo padre E' normale che ti scancheri in faccia Voglio dire E' normale Vedere questo video a tuo padre E' normale che ti smadolli Io Lei dove si vede fra vent'anni? A Cimedero L'ottimismo ragazzi E' il profumo della vita D'altro canto Quando senti dire Che Elena spanò Chi? Quando senti dire Che Elena spanò Che non è stata pagata Per fare quel video con Bavaro Ah ok La tizia che ha Lì segato Bavaro Sul video di Olifar Questa cosa è Al contempo Una delle cose più belle Che abbia mai visto E anche una delle cose più inquietanti Che abbia mai sentito Kevin Metti questo a tutto volume Secondo me I ladri scappano Secondo me Io te lo dico Se vedi questo a tutto volume Secondo me I ladri scappano Pensano ci siano Degli psicopatici Altre Mia madre è incinta E sta dormendo Non la sveglio Per non farla agitare Ti prego capiscimi Kevin Ho capito che non vuoi svegliare La madre dei tuoi futuri figli Ho capito Ma scusa E il padre dov'è? C'è? Il padre c'è? No adesso andiamo Adesso andiamo a fondo A questa facenda Adesso andiamo a fondo A questa facenda Il padre Tuo padre dov'è? Ma poi perché sei in casa Ma poi perché Scusami No però io non sto più capendo Perché sei in casa Con tua madre incinta E ci sono dei fantasmi Cazzo Non le luci Che cazzo Kevin Che cazzo sta succedendo In casa tua Che cazzo C'è tua madre incinta E ci sono dei fantasmi Che accendono la luce Nel salotto Ma che cazzo Succede In casa tua Aspetto con ansia La versione con la cocaina Let's make the world's strongest coffee Even stronger So y'all blew up my last video An insane amount And many of you said That the coffee Just wasn't strong enough So I got some Red Bull To use instead of water So you just boil a bit Of the Red Bull So that it desi Ma sei fuori di testa Resolves Involubile Ma ne bevi una tazzina E ti viene un attacchi cardiaco Si blocca il cuore Per tutta la vita Come si spiega la parte finale MFS Motherfucker Non so Che ha una stanza anime This is my room Pretty nice huh Oh I didn't know you liked the anime so much Oh no Kevin ti sento Lo so che stai andando in bar Ma io non posso farlo a live Con voi Ma io non posso farlo a live Con voi deficienti jazz Ma io come faccio Scusate Sì siamo così Lo ammetto Vabbè cazzo te ne frega Scusa Sono signorine degli anime Che utilizziamo Saranno un po' appiccicati Non le toccare Saranno un po' Un po' appiccicaticce Quelli Ma Non tocchi Mio padre torna domani Perché era in vacanza A Rio de Janeiro Ma che cazzo Kevin stai tranquillo Esci dal basamento Non c'è nessuno Kevin Stai tranquillo Esci dallo scantino Non c'è nessuno Cosa sta diventando La chat stasera Kevin Chiunque tu sia Sei magnifico Stai rendendo Stupendamente misteriosa Questa live Ti amiamo Le ipotesi sono due O Kevin Ci sta prendendo Per il culo La droga oggi Era particolarmente buona Mangiatore di cazzo Per aver giftato la sub Al seminterrato di Kevin Ma che cazzo Che cazzo dici Oh mio Dio Ah io stasera ci muoio male Che cazzo Ah beh Kevin Stai lì Se ti senti al sicuro Lì stai lì Che ti devo dire Stai là E non uscire Per un po' E ti senti al sicuro Stai nel seminterrato Voglio dire Piuttosto che far Ti prende l'ansia Stai lì Aspetta un po' Vasco Rossi Vasco Rossi Eeeeee Eeeeee Sì è più o meno Il riassunto Del 90% Delle canzoni Di Vasco Rossi Quindi effettivamente Fede Grazie per aver giftato Una sub Alla mamma Di Kevin E vabbè Raga stasera La live è on fire Ti stiamo facendo Noi intrattenimento Praticamente Vogliamo il pizzoletto Con la voce Del preside Del collegio Asterisco Parte il fatto Che il merito È di Kevin Non vostro Però siete stronzi Avete giftato la sub Al fantasma di Kevin Al seminterrato di Kevin Alla mamma di Kevin E a Kevin Poverino Vi prego Raga continuante Sto collasando Ma siete Degli strozi Oh Dio Ruba grazie Ruba grazie Per aver giftato Una sub Al cane Di Kevin Oh Dio Ma a parte Che non sappiamo Se Ma noi non sappiamo Se Kevin Abbia un cane Scusate Come l'avete fatto A stabilire Che Kevin Abbia il cane Scusate Oh mio Dio Ma che è Sta roba Il compagno Il compagno Di classe Laziale Altro che L'ore Di Dark Souls Il compagno Di classe Laziale Il compagno Di classe Laziale Dopo aver Trascorso Due anni A studiare L'università Di Bologna L'improvviso Mi sono accorto Di non riuscire Ad alzare Il braccio Destro Il braccio Non si alzava Era allarmante Mi sono sentito Crollare Il mondo Addosso Ultramox Oh Grazie Ultramox Grazie per aver Giftato Una samba Kevin E il Binky Grazie per aver Giftato la samba A Binky Non vedo Cazzo Aiuto A Binky Borsalino Grazie per aver Giftato la samba Luke E al padre Di Mangiatore Di cazzo Grazie per aver Chiudato Il padre Di Kevin Abbiamo fatto La famiglia Al completo Io ve lo dico Oramai Che altro manca A parte i nonni Di zii La luce I ladri Ognuno Manca quello No Il resto Ognuno Ognuno Mia Sto morendo Ha creato L'instagram Di Giorgio Meloni E questo Lo sapevo già Batman Batman servo Del patriarcato Batman servo Del patriarcato Che la vuol pagare Paga meno Batgirl Di Robin Ma è vero Ma io ho sempre detto Che Batman È un bianco privilegiato D'altro canto Ragazzi Batman È un ricco bianco Che picchia I poveri Cioè io ho sempre detto Che la tab Batman È un ricco privilegiato Che Se la prende Con i poveri Che non possono Ruma Grazie Per aver giftato Una sabba Al salotto Di Kevin Oh mio Dio Sto detonando Malissimo Il trono Di potere Coglione Il trono Di posate Bello Questo è il mio È mio Il trono Di posate Oh madonna mia Che spavento Paolo penguin Perché Sembra Gesù Cristo È difficile che spaventi Ha la faccia Che sembra uscito Direttamente Da una missione In qualche paese Sperduto Per aiutare i bambini Baldur's Gate È un gioco Scandaloso Questa è la drammatica Storia Dell'orso arrapato In Baldur's Gate 3 Solo perché In Baldur's Gate Si può scopare Diventando un orso E capirai Ok in questo momento Mi sento Molto barbassuro Il panda Non vuole sopravvivere Uno dei momenti Più iconici Di Baldur's Gate 3 È sicuramente Quella scena dell'orso E vabbè Se trombi con il druido Che il druido Può trasformarsi in un orso Tromberai come orso Che cazzo E vabbò Il druido Si può trasformare In tanti animali L'orso C'ha una ciola gigante E oh Voglio dire Mostrata durante la deprima mondiale Beh diciamo che Questa cosa ha creato Un po' di imbarazzo Soprattutto tra i familiari Di Sven Vink Creatore del rito Infatti La scena in questione È diventata ovviamente virale Dopotutto siamo Un pianeta di deviati Ed è arrivata anche Agli amichetti Del figlio di 17 anni Di Sven Ora Gli orsi saranno anche arrapati Ma nulla in confronto A un gruppetto di adolescenti Jim Non è come sembra La cosa è esplosa A tal punto Che il povero pargolo È Grawell Grazie per aver Gettato la salta Al prete di Kevin Ma cosa succede Cosa succede Le luci Il salotto Di Kevin Stiamo giocando A briscola Col nonno Di Kevin Le luci Di Kevin Ti prego Torna Mi sto fulminando Ma che cazzo Soprano A briscola Ma non spaventate Kevin Poverino Che sennò Rimane in ansia E non esce E non esce Non esce Da Dallo scantilato Per Stavo morendo Non riusciamo a andare avanti Ragazzi Non riusciamo a andare avanti È andato dal padre A dirgli Oh Vatti qua Mi stanno tutti Continuamente Mandando foto di orsi Tu per caso Ne sai qualcosa E niente Baby Ha poi dovuto ammettere Che suo padre Fosse Polizia Del paese Di Kevin Kevin resisti Stiamo arrivando No ragazzi Non andiamo avanti Ultramox Grazie per aver giftato Una sabba Nono fantasma Di Kevin Ma come fantasma Scusami Ma che ne sai Magari è vivo Ma perché fantasma Scusami Tipo bizzarro Lasciando lo stesso Sven Piuttosto sorpreso S'aspettavi La tazza Cospito Padre dell'anno Oh Dio Per questa E altre bizzarrie Sull'amore animale Figliolo di Kevin Sono nato Vi consiglio Il canale Di Barboscura Se invece Vi interessa No ragazzi Non sto più capendo Un cazzo Del reddit Non sto più capendo Una sega Di quello Che sto vedendo Del reddit Oh Vado da salta Oh caldo Oh caldo Oh Dio Allora Allora Ehm Vai avanti ancora un po' C'è la cover Eh un attimo Dark Fammi respirare Ho avanti Un attimo La finestra Perché qua Non si respira Cristo Voglio ridere Ma ho ancora La pistola in mano E la mazza da besbola A fianco Certo Kevin Che se ti metti a ridere Tua madre Entra Nello scantinato E ti vede ridere Con una mazza da besbola Nella pistola E tua madre Che chiama la polizia Secondo me Io te lo dico Io mi inquieterei Se vedessi mio figlio Nello scantinato Che ride Con una mazza da besbola Nella pistola Però voglio dire Ladri a casa di Kevin Kevin ho fatto nascere Il tuo fratellino Auguri Oh Dio mio Hello there Ultra voice Grazie per aver chiamato Ho fatto un abbollamento Le bollette di Kevin No raga Non usciamo più Io ve lo dico Non usciamo più Oh Oh mio dio Lei vuole Che io me ne vada Però io ragazzi Devo andare anche Andare avanti Corretto Io sarò uno sciampio Questa Signora ma che cazzo vuole Scusi Che cazzo Si 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 Signora ma che cazzo Vai via Non abiti qui Ma che cazzo Signora ma che cazzo Ma che cazzo è ragazzi Ma da quando le persone Possono aprirti la portiera E dire che sei sospetto Tesorino dove sei Fammi compagnia Che stasera ti faccio Uno sconticino Fino a 25 euro Con bocca e pesca Anzitutto Per farti sollevare Il morale A parte gli scherzi Sono Mikarot Grazie Grazie Escort Di Kevin Ruma Grazie Per aver chiestato La samba Le palle Ma Scusi Io Adesso A parte Kevin Ma io Ce l'avevo già Dato una sportellata In faccia La signora L'avevo ribaltata Per terra Ma che cazzo vuole Scusami Cioè vai via di qua Non ti ho mai visto qui Non ti riconosco Ma che cazzo vuole Chiamare la polizia Chiamare la polizia E dice C'è una persona Parcheggiata Che non abita qui Arrestatelo Subito Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo vuole Ma che cazzo vuole Cazzo vuole Scusami 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 Ma no Volevo dire come finiva Volevo dire come finiva No dai Ero stracurioso Ero stracurioso Vediamo un attimo Vediamo un attimo Vediamo un attimo Il video che mi è stato fatto Sto morendo ragazzi Sto morendo Porca troia Non si può stare tranquilli Un attimo In sta casa Grazie Amante della mamma Di che Ah Problema risolto Era l'amante Kevin Abbiamo risolto Il problema Era l'amante Che faceva casino Era a posto A tutta la chat Vi ordino di spammare Il matador Chi Chi Cosa vuol dire No zio Ma che cazzo Ma Che l'insignal L'aveva l'avere Giftato Al figliolo Di che No zio Ma che cazzo Dizi Ma Il quadrisamolo Di che Eh Niko Grazie per gli undici Palatino Grazie per gli Ah è finito Bellissimo Palatino Bellissimo Grazie mille Questa è stata una perla Stupenda Momento ragazzi Di momento Vado un secondo al bagno Perché adesso Non ho picciato di musica Oh Eh soffio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti bello ragazzi ho un'emicrania no 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 guarda eri nala eri in tv eri al computer nala eri al computer ma cosa mi rotti in faccia eri al computer nala eri al computer ciao papere ciao papere mmm non è che mi rotti in faccia voglio dire ma quanto sei bella oddio se sei bella cacchio aspetta aspetta fava grazie merda ragazzi mi avete fatto il mio mal di testa non so cosa sta la mazza di Kevin lo psicologo di Kevin ma cosa cazzo il contatore di Kevin Kevin i ladri mi hanno tagliato i capi ma che cazzo sta succedendo ma che cazzo sta succedendo ma che cazzo sta succedendo oh mio dio oddio no niente ragazzi oggi oggi non andiamo è diventato un gioco di ruolo oddio mio oggi non andiamo avanti ragazzi oh mio dio oh mio dio dovremmo andare avanti con il gioco horror di Daniele ma io c'ho mal di testa borghantroia oh allora dunque 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 eh Kevin oh mio dio allora un attimo walking dead quando ma non lo so allora guarda guarda per democrazia vi faccio scegliere dai dai siccome ho tre giochi da fare che mi andrebbero anche bene poi vabbè poi ragazzi dobbiamo sceglierne uno dopo dobbiamo farne uno che diventa uno perché non posso saltare da un luogo all'altro da un gioco all'altro allora dopo ragazzi dopo dobbiamo sceglierne uno ragazzi non possiamo andare avanti e indietro sennò qua non usciamo più il gioco di Daniele dura circa 7-8 ore ragazzi più o meno quindi lo finiamo in e neanche una settimana lo finiamo secondo me vabbè ha stravinto il gioco di Daniele perfetto oh 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 Daniele ho paura ci sei ho paura oh madonna Allora Non vedo Non vedo chi è Marengor grazie mille per i 25 Grazie mille per i 25 Allora Bloody Ink Gioco Horror di Ma Alan Wake 2 Non lo hai più ripreso Daniele Doesn't matter Ok Oh quanto amore Quanto amore Eccolo qua Non